Quello che sta per succedere stamattina per me è molto particolare ed emozionante perché sto per fare una chiacchierata con una persona che però è anche un mio carissimo amico non lo voglio nascondere più che altro perché secondo me potrebbero accorgersi dell'emozione i miei ascoltatori Maurizio Jack Giustolisi, benvenuto Ciao, grazie, grazie dell'invito Antonella Sono molto felice di poter condividere insieme a te la tua storia perché è una storia esemplare Sabato scorso è stato presentato un libro intitolato Forza Jack questo libro è dedicato proprio alla storia di Maurizio che è diventato un po' posso dirlo una sorta di testimonial io dico sempre sei il testimonial della forza, della speranza, della tenacia e del fatto che questo pessimo virus orribile si può in qualche modo sconfiggere però tu ci hai fatto i conti in maniera molto forte allora vorrei che fossi tu a raccontare cosa è successo un anno fa peraltro subito dopo un'importante gara che hai fatto sì, allora diciamo che come tutti temevo questo virus eravamo al secondo lockdown diciamo che come tutti appunto lo temevo ma lo guardavamo da lontano avevamo paura ma non pensavamo di essere colpiti ognuno di noi fin quando non cade non capisce quello che succede intorno e allora niente mi stavo preparando a fare questa gara ripeto voglio sottolineare che io sono un maratoneta amatoriale di rispetto assoluto degli atleti veri ciò non toglie che per compiere delle imprese come la maratona da 42 km bisogna fare molti sacrifici soprattutto per una persona come me che ha un normale lavoro, una famiglia si fa la spesa, si lavora, si fa i notturni e quindi è un sacrificio immane ma sempre fatto col sorriso e con il piacere di stare insieme agli amici comunque giorno 1 novembre mi approssimavo a fare questa meravigliosa gara che è la maratona di venezia che in quanto il lockdown è sospesa in loco veniva fatta ognuno nella propria città mandando poi i dati con il telefonino il risultato e veniva certificata durante la gara mi accorgo di avere una stanchezza immane intorno a metà gara o tre quarti di gara non era normale, notavo che c'era qualcosa che non andava quindi ho continuato sospinto dalla forza che mi davano gli amici il coraggio e l'incitamento che tra di noi fratelli dello sport ci diamo sempre, ci aiutiamo sono riuscito a portarla a termine con oltre mezz'ora rispetto alla mia normale tempistica ma cominciavo a stare molto male nei giorni successivi mi sono reso conto di sentirmi sempre più debole sempre più debole finché intorno al 10-11 novembre comincio ad avere la febbre nell'arco di tre giorni la mia situazione si aggrava la mia febbre sale di più, non riesco a respirare mia moglie disperata chiama il 118 i medici del 118 mi hanno detto candidamente che se non fosse lei è positivo e non supererebbe la notte a casa così ah ti hanno detto proprio così? sì 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 perché devo dire che mi sono state dette le cose sempre in modo diretto facendo i conti con la realtà perché questa cosa l'ho apprezzata nel tempo perché a differenza di quello che può pensare la gente che magari si creano false speranze apprezzo il lavoro dei medici che sono stati dal primo momento fino a oggi sempre schetti, diretti, eccezionali sono prodigati al massimo per salvare anche una sola vita pur fallendo a causa loro contro questo virus maledetto maledetto veramente ti blocco un attimo per ricordare più che altro quello che abbiamo appena detto che sostanzialmente la progressione della gravità del covid-19 sul tuo corpo è stata nell'arco di tre giorni cioè nell'arco di tre giorni tu sei peggiorato in modo drastico sei stato ricoverato sono arrivato in fin di vita in fin di vita in fin di vita in fin di vita un uomo di 44 anni sano è abituato allo sport alla fatica quindi questo è qualcosa su cui io credo tutti dobbiamo riflettere tanto cosa succede in quel momento? tu vieni ricoverato però la progressione in senso negativo è di una rapidità mostruosa 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 già io al pronto soccorso ero diviso a livello mentale fra il pensiero di non tornare più a casa perché questo conto l'ho fatto e quello di lasciare una famiglia una bambina piccola bisognosa di papà e mia moglie con la responsabilità di tutto quello che doveva succedere anche se devo dire non ho mai avuto paura di morire ma la mia paura era sempre quella di lasciare la tua famiglia la famiglia dal momento in cui tu sei stato portato al pronto soccorso al momento in cui poi sei praticamente entrato in coma quanto è passato? allora i primi due giorni sono stato mascherato tra virgolette con una fortissima maschera a pressione che mi ha anche spaccato il setto nasale ancora ho la ferita mi hanno ossigenato mi hanno tenuto al pronto soccorso dopodiché per un paio di giorni sono andato in reparto di pneumologia un po' meglio nel parlare nel ricevere qualche telefonata ma chiaramente il medico mi ha detto prepara la tua famiglia perché molto probabilmente da questo ospedale non uscirei più e lì è iniziato il dramma di dover dire a mia moglie sembrano le cose banali ma quotidiane la bolletta l'ho pagata questo c'è da fare questo c'è da andare in banca parla con un tizio per il lavoro per l'assicurazione sul lavoro tutte queste cose normali perché l'ho detto probabilmente non tornerò più fatevi coraggio mi raccomando so che siete forti e questo è quanto prima di entrare in coma ecco perché poi intorno al 21 mi ricordo intorno al 21 novembre ho consegnato il telefono in rianimazione ho consegnato il telefono al medico e gli ho detto arrivederci speriamo arrivederci cosa succede il 26 novembre sono morto praticamente il 26 novembre sono morto è così all'ultima spiaggia quando proprio il mio corpo non dava più segni di vita mi hanno trasportato di urgenza al policlinico dal Garibaldi Vecchio che è la struttura dove mi ha accolto all'inizio mi hanno portato al policlinico in una stanza dove c'era il macchinario ECMO che molti magari sconoscono la famosa macchina della morte dove sono stato attaccato per ossigenare in modo extracorporeo il mio sangue immobilizzato e tenuto con delle cannule e niente da lì in poi non cosciente da morto anche se anche se ci sarebbe da fare un dibattito per dieci puntate ecco per quello che magari ho visto ho sentito durante il coma dove vivevo una vita parallela ma questa è un'altra storia questa è un'altra storia veramente credetemi magari in un'altra puntata assolutamente il punto è che a un certo punto mentre tutti quanti pregavano per Jack mentre tutti conoscevano Jack non solo i suoi amici ma anche quelli che non lo conoscevano avevano conosciuto questa storia incredibile di un uomo di 44 anni sano maratoneta che si ritrova dentro la cosiddetta macchina della morte e allora succede qualcosa di incredibile a Catania e non solo intanto i tuoi fratelli che condividono con te la passione per la corsa cominciano a correre per te con questa magliettina con scritto forza Jack è una cosa che mi ha colpito molto durante la presentazione del libro forza Jack sabato scorso perché Panascia il dottor Panascia ha proprio detto io ogni volta stiamo parlando del primario del policlinico ogni volta che vedevo questa gente che correva per lui mi chiedevo chissà se io ce la farò a farlo rimanere vivo e se ciò accadrà chissà come rimarrà e io vorrei che tu spiegassi quando è finito tutto dal punto di vista diciamo della macchina della morte quando sei tornato alla vita che cosa cosa hai visto come ti sei trovato chi era Maurizio chi era diventato Maurizio innanzitutto dopo il risveglio della macchina della morte purtroppo ero nelle condizioni psichiche di semi veglia nel senso che avevo gli occhi aperti sbarrati sfiduciato mi dicevano le persone intorno a me soprattutto perché poi sono state trasferite nel frattempo sono stato trasferito al San Marco al San Marco in rianimazione tutti quelli intorno a me mi dicevano che avevo gli occhi sbarrati mi rifiutavo di collaborare mi rifiutavo di parlare però io ero incosciente ma vivo incosciente ma vivo lì ebbi all'inizio un aggravamento poi di nuovo riattaccato ai polmoni artificiali per l'ennesima volta sono il mio corpo non voleva morire il mio cervello continuava a girare a 3000 il mio cuore non ha perso mai un battito e quindi niente sono rimasto lì con la terrore di tutte le persone intorno a me medici e infermieri erano convinti che psicologicamente a livello cerebrale avesse avuto io diversi problemi perché mancando l'ossigeno per molti minuti parecchie volte io non so come la spiega la scienza questa cosa sinceramente non lo so io magari io ridendoci perché poi io faccio dell'ironia il mio cavallo di battaglia ho sempre pensato che laddove c'è poca roba il danno è sempre minore e quindi evidentemente nella mia testa che c'è poca roba il danno al cervello è stato minimo mi piace pensare questo e poi niente posso posso raccontare l'evento che mi fece svegliare dopo circa dieci giorni di occhi sbarrati e mancata collaborazione mi fecero risvegliare dal torpore delle parole della mia infermiera la mia piccola Miriam il mio piccolo angelo che stava ogni suo turno era dedicato ovviamente al reparto e a tutti i malati ma poi si metteva vicino a me mi teneva la mano e parlava parlava da sola perché io non capivo non ascoltavo ma un giorno mi disse ti devo portare le chiacchiere di un panificio che le fa buonissime questo a contorno a corollario di un discorso che mi aveva fatto tutto ma quella parola chiacchiere già eravamo a fine gennaio da novembre a fine gennaio esatto quella quella parola chiacchiere hanno acceso in me una lampadina mi sono girato di scatto avevo la tracheostomia avevo la cannula alla gola pertanto non potevo parlare mi esprimevo soltanto al labiale sono scattato nella sua direzione gli ho detto chiacchiere ho detto scusa ma il panettone e le rame di napoli perché io mi ero fermato a qualche mese prima e lei mi disse ma guarda che siamo nel 2021 siamo quasi a carnevale e lì scattò il mio risveglio assoluto da lì in poi fu un progredire di di sensazioni di dolore di disperazione perché dando per scontato io stesso di essere vivo ogni volta vedevo il mio corpo straziato distrutto come diceva qualcuno il mio corpo si è automangiato si questo è il termine corretto avevi perso automangiato sono stato in inchietosi credo si dica così il mio corpo andò inchietosi mi vedevo sotto le lenzuola incapace di muovermi e praticamente pelle e ossa dove si vedevano le ossa e un lenzuolino di pelle di sopra a coprire quindi diciamo che mi ero addormentato nel massimo del mio stato di salute e di fisico allenato e credo di aver perso circa 30 kg su per giù ero davvero era deprimente e non nascondo che alcune volte pensavo di chiudere gli occhi e non riaprirli più perché era veramente una situazione disperata poi ovviamente la mia mente continuava a lavorare e il mio pensiero fisso il mio chiodo fisso era quella piccola bimba di nome Agatha che è alta quanto me diciamo non è tanto piccola o realta più di te lo possiamo dire che è più alta di te per me è sempre esatto per me è sempre piccolo lei è il miracolo della vita che abbiamo messo al mondo e quindi qualcosa mi spingeva a lottare sempre Maurizio una cosa importante che io però voglio che noi diciamo noi oggi è finito tutto ma non è finito tutto nel senso che sì Maurizio Jack Giustolisi è sopravvissuto al covid sì Maurizio è tornato alla sua famiglia ma non è tornato a una vita normale Maurizio sta ancora combattendo con medici visite interventi ne hai fatto uno di recente all'anca a una delle due anche perché la prima era stata già operata esatto ho fatto il secondo intervento ora l'otto novembre il primo l'ho fatto a luglio e soprattutto stai lottando anche con la burocrazia questo vogliamo dirlo eh sì diciamo che adesso pian piano dopo dopo circa otto mesi di di suonare i campanelli e non avere mai la porta aperta adesso sta cominciando a muoversi qualcosa anche a livello di di possiamo dire sì anche a livello proprio lavorativo perché finalmente mi hanno riconosciuto quell'invalidità che non mi non mi ha permesso di andare al lavoro ecco anche se io non posso fare il nome per questione di di privacy non posso fare il nome ma la mia grande azienda mi ha sempre sostenuto lo so come come devo dire la tua azienda anche se bisogna dire che tu l'hai sempre ripagata perché ci lavori credo dal 97 sì diciamo che ci lavoro dal 99 eh tranne pochissimi eventi io non prendevo un giorno di malattia da almeno 15 anni come tutto nella mia vita ho sempre lavorato con passione e col sorriso sulle labbra dal primo minuto all'ultimo minuto prima di timbrare il cartellino e tornare a casa comunque tralasciando questo intorno a me anche la mia azienda ha fatto la sua parte tutti mi hanno trasferito quell'amore quel sostegno quella forza che mi ha permesso di dire sempre anche io a me stesso forza Jack lo facciamo vedere il libro Maurizio facciamolo vedere questo libro sabato è stato presentato questo libro io ci tengo a far sapere che è una testimonianza e attraverso la poesia di Mario Sibilla che si è messo a disposizione della causa così come hanno fatto moltissime persone che sono intervenute sabato scorso però siccome questo libro ha una finalità una doppia finalità a mio avviso un monito per quelli che magari sono ancora scettici nei confronti del vaccino e hanno paura ci sta anche io ho avuto paura di vaccinarmi però l'ho fatto perché sono convinta che fosse la cosa giusta da fare però nessuno giudica la vostra paura noi non vogliamo giudicare la vostra paura però vogliamo portarvi la testimonianza di una persona che ci ha fatto i conti col covid che esiste questo vogliamo dire e soprattutto Maurizio vogliamo ricordare che si può ancora la doppia finalità è anche poterti dare una mano si può ancora acquistare non voglio dire acquistare perché in realtà verrà fatto così come ho fatto io è una donazione esatto vuole essere più che altro questo vuole essere innanzitutto vuole essere un messaggio un messaggio sia di lottare e non mollare mai un messaggio per capire che il covid esiste ed è brutto è un messaggio verso gli scettici perché come hai detto tu noi non dobbiamo lottare contro nessuno noi non dobbiamo convincere nessuno noi dobbiamo la barca ecco esatto noi dobbiamo cercare di arrivare alla coscienza perché io ne faccio sempre una questione di coscienza a causa di magari delle scelte politiche che non sto io qui né a giudicare né a giustificare né a dire si è creato un po' di confusione mista alla paura giustissima e corretta delle persone che magari nel vaccino non ci credono come non credono in altri vaccini perché io queste scene di antivaccino le ho vissute facci vedere anche la tua faccia vero Maurizio nel frattempo assolutamente queste scene di antivaccino le ho vissute anche quando a iscrizione scolastica si faceva con i bambini le mamme sempre scettiche si vaccino si mia figlia mio figlio le voglio vaccinare non lo voglio vaccinare è un classico è una paura è una paura normalissima normalissima noi non dobbiamo convincere nessuno noi dobbiamo soltanto dire che se la coscienza della della comunità si fa carico di di sostenere vaccinandosi superando la propria paura di sostenere il vaccino appunto che è l'unica nostra arma possiamo possiamo aiutare la comunità a superare questa sicuramente mi starò impappinando perché non riesco a volte anche l'emozione mi tira brutti scherzi però voglio dire noi dobbiamo smuovere la coscienza delle persone queste poesie bellissime di Mario Sibilla raccontano degli attimi perché lui è un grande è riuscito ogni mi chiedeva tre parole per ogni poesia e lui ci costruiva la poesia bellissima su ogni poesia Mario è anche lui la dimostrazione di quanta gente ti è stata accanto e continuerà a starti accanto Maurizio io scusami ma il tempo è in combi in maniera si si capisco capisco e ci siamo presi anche molto più tempo del solito però ne valeva la pena perché questa era una testimonianza da portare io ti dico grazie e aggiungo soprattutto forza Jack un abbraccio grazie grazie a te Antonella un bacio ciao un abbraccio a tutti